Sono stati affidati questa mattina i lavori di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Via L'Aquila. Con decreto commissariale sono stati affidati i lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero plesso di Via L'Aquila attualmente utilizzati dal CP regionale della Scuola dell'Infanzia. Con procedura negoziata aperta a 10 imprese, sono aggiudicati i lavori per circa un milione e mezzo lati composta da maiascavi e gruppo autotrasporti di Sulmona. Hanno l'onere anche della progettazione definitiva ed esecutiva. Prosegue senza sosta il lavoro degli uffici comunali per tradurre in opere i 20 milioni di euro del piano delle opere pubbliche annualità 2023 che comprende molti fondi intercettari dal PNRR come nel caso di specie. Voglio ringraziare gli uffici per lo sforzo profuso dall'espletamento delle complicate procedure previste dalla normativa per aver rispettato con ampio anticipo le scadenze previste, spiega il vice sindaco Franco Casciani. Entro il primo novembre si dovrà dare corso all'esecuzione dei lavori che insieme alla prevista realizzazione del nuovo centro per l'impiego daranno un nuovo volto una migliore fruibilità dei servizi.